Ho trovato un giorno un uomo che gli avevano tagliato le gambe, guerra, nella guerra. Non aveva dormito tutta la notte, era desolato. Sono andata a casa, gli ho portato tutte le coperte che avevo, quello che mi avevano regalato e lui l'ha messo. Allora lui ha detto io per ringraziare la Madonna, siccome c'è Chidanei Meret è chiamata la Madonna della Misericordia, fanno una processione, io andrò. Come fai ad andare con una gamba sola? Ci ho detto io che quell'altra. Io ci vado. Sa che si è andato, ha preso la scopa, ha messo qua sotto, non so come ha fatto, però è stata per me una lezione. Che quando uno è grato a Dio è bello, è buono, perché l'ha fatto per ringraziare la Madonna.